Bella a tutti ragazzi bentornati su Planets 2 Stiamo difendendo una base che sarà molto dura a difendere Se qualcuno mi sta sparando Allora io ho dispiegato Sunderer, ho messo giù una torretta Adesso volevo dare una mano qua Per distruggere un po' i mezzi Adesso riesco a piazzare questa Merda più basso Ehm, stai su te lo pere Eh, stai su te lo pere Ehm, stai su te lo pere Ehm, stai su te lo pere è in una posizione di merda arriva anche la cannoniera allora 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 proviamo a spostarci un pelo più avanti con il nostro trabicolo riprendo la torretta guardate che curiamo tutti attiva 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 ammazziamoli attiva 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 ... a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. su, su, su... a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. c'è ancora. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. , a tutti. 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 a tutti.